Buon venerdì 17 maggio a tutti voi, brevissimo aggiornamento video, buon fine settimana, non c'è ancora il 36 né a Bari né a Genova né su tutte nazionale, il 36 sembra come il 90 congelato. Allora situazione che si porta avanti, avete visto che non faccio altri video perché qui si giocano sulla previsione, per un massimo di 6, 7, 9 colpi. Siamo a 7 colpi, questa sera con la previsione del 36, Bari, Genova, poi la tazzina tutta nazionale, lo sapete a memoria, c'è solo un 84 che è uscito su Napoli, che non c'entra nulla, ma la somma 36 a Bari, stessa cadenza, stessi numeri radicali, 3, 33, questo dovrebbe portare il 36, perché anche a Monte, se andiamo a vedere, c'è proprio il 36 del Firenze che ancora non è arrivato né a Venezia né dell'imbalzo a Bari, la sua gemella, questa lambata contata, lo sapete a memoria. Posizioni in rosso, non solo la prima, ho aggiunto anche la quinta per Bari perché non si sa mai. Condizioni che si porta avanti, inutile fare altri video se poi la situazione non si sblocca, quindi condizione ancora aperta, 36, Bari, Genova, tutta nazionale, vedete non c'è stato nulla e quindi si porta avanti i due ambi secchi anche su tutte se volete nazionale, e poi la tazzina, 36, 48, 84, 36, prima posizione a Bari, ma ho messo ancora la quinta perché ci va proprio a cadere anche lì. Situazione invariata e situazione invariata anche per quanto ne concerne sulla classifica integrale del 90. Questi sono gli ultimi 90, Milano-Napoli, guardate qua, Milano-Napoli ancora, poi c'è stato il Venezia che portava al Palermo, avevo scelto Genova ma è arrivato a Palermo, Palermo adesso Genova e poi il Venezia di nuovo a Palermo. Poi c'è stato un altro 90, l'ultimo 90 del 14 di maggio, martedì, Venezia-Bari, Venezia ha già dato, adesso Bari dovrebbe essere veramente di ritorno, di riflessa, se non che arrivi poi magari a Venezia. Comunque, questa è la prospettiva, quindi Bari-Genova-Milano-Napoli, le condizioni, ovvero le posizioni più forti, sempre costranno distinte dal doppio più. Bari-Genova-Milano-Napoli. Queste sono le ruote di interesse, vedremo se andrà a finire su Milano-Napoli, che vi ripeto dovrebbero essere le primarie, a seguire Genova per ultima Bari. Quindi Milano-Napoli, le primarie, Genova, mettiamoci anche Genova come primaria e poi secondaria alla Bari. Previsione all'ora che si continua, unica previsione qua su YouTube, 36-48, 36-84. Il 36 non si è fatto vedere da nessuna parte, e né col 48 né col 84, quindi inutile cambiare condizione se poi alla fine non è arrivato ancora l'esito. Quindi, stasera che è venerdì, un colpo, e poi domani, se non dovesse uscire questa sera, che è sabato, due colpi, basta, poi dal lunedì si cambierà tutto. Ci risentiamo ai prossimi aggiornamenti, da Marcos è tutto, passatevi un buon fine settimana, se ci sono poi dei risultati questa sera, ci risentiamo. Buon proseguimento!